Salve a tutti Siamo qua questa oggi con una nuova custom map Io, Zombie Bears Ho detto Giambo è un testo in giozzo Ciao, le sono Gimbo Ciao, le sono Giambo Siamo tutti qua Siamo qui per fare una mappa che vedete in basso a sinistra Si chiama Nazi Zombies on ABC Ma in realtà si chiama Claustrofobia Claustrofobia È bellissima ragazzi Claustrofobia ragazzi Una mappa che ha trovato il nostro caro amico Debe C'è scritto Shish Anche io ho visto Dove avete visto Shish Ragazzi siamo ambientati Ragazzi mi sono perso Ragazzi mi sono perso Mi sono perso Aiuto Siamo in un labirinto potremmo dire Molto stretta Sarà molto angusta Tra virgolette buia E qua ci sono i big money Ecco i soldi della partner C'è una scritta C'è subito una scritta What makes you different from the ones before Cosa ci rende diversi da Zombie venghi No no fermi ci sono i big money sulla sedia Io voglio farvelo notare È una mappa da money grabber Cosa vuoi dire i big money sulla sedia? Sono tuoi Oh deve salve è già aperto Ma che cosa No sei scemo No 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 Questa è la mappa Penso sia la mappa della mappa Penso sia Questa è la mappa della mappa zombie Venghi venghi Ah no no c'è una porta qua ragazzi Aiuto questo fov ha tipo 3dc a cos'è Oh cazzo Oddio Oddio pensavo fosse questa No 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 ragazzi Allora Ragazzi tranquilli nel frattempo stanno succedendo gli zombie dalle pari Eh salve Jambu questo sarebbe un problema No dove siete Dove siete Dove siete Dove siete Signor Jambu questo qui sarebbe un leggero problema vero? Allora io ho una domanda Cioè dopo lì viattano una mappa tranquilla molto aperta No noi ci siamo invece Aperta Aperta Era sott'acqua Era sott'acqua Quindi non era molto aperta Beh No nel senso dico Potevamo scegliere una mappa molto aperta No invece no Questa qui è stra stretta Ti dà una stra sensazione di Crassofobia questa Che cazzo di questo? Sei uguale Al tuo cazzo di personaggio di GTA sei bruttissimo È vero È vero È vero È vero È vero Sei bruttissimo Lasciatemi in pace Ok? Gip si cambia Gip si cambia Gip si cambia Allora i bambini brutti a scuola non vanno presi in giro Ok? T'aiuto ho bisogno di ossigeno Allora ragazzi bisogna aprire la prima porta perché ci servono armi, jug, munizioni e quant'altro Db89 Db89 Yeah yeah Apri la porta qui Apriamo Vai C'è stato un attimo momento in giro Com'è possibile che io ho tutte queste uccisioni quando Jumbo ne ha fatte più di me? Db apri Non lo so Il giocatore morte si vede Db apra È vero È vero C'è stato un fottuto gay Allora Qualcuno deve sparare Apri Ok 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 sta mappa si sta mano mano ingrandendo senza portare un risultato Corrente corrente Io apro qua che c'è il simbolo da corrente Ok allora io apro la prossima porta sempre se non è di qua no Raga tranquilli io apro questa No Mario must activate power first Bene Bene Prendete il culo Se mi dici che c'è il simbolo qui Sembra un dungeon di Skyrim Di qua di qua Ok ok forse di qua Ah ecco Ah trovata trovata dentro di qua 1100 1100 punteggio Ho aperto io dov'è 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 1100 punteggio Ecco dai perchè non ci ascolta mai ci perderà No ma fanculo mi ho trovato brutta e merde Eh qui c'è un'altra porta ragazzi ma qua siamo abbastanza in un punto Ma fanculo io ho aperto No Jimbo ha aperto dall'altro lato No 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 ho aperto una sega io Ok per ragazzi siamo finiti dall'altra parte Mille mille l'ho aperta l'ho aperta Cosa Oh Dio cos'è che cazzo è che cazzo è questo rumore che cazzo è questo rumore abbiamo le cupie e mi è venuto un ansia d'ossi ma donna santa cosa è stato? mi ha straagitato lo sai leggete 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 tu lo sai lui lo sa lui lo sa lui lo sa ragazzi mi dico che io mi sto cacando ho sentito questo verso io lancio granate per morire gli avversari in amore compriamo il Thompson ragazzi le armi prima le armi ricaricate che cazzo ricarico che non ho niente ragazzi prima le emmo io vi giuro che non ho mai visto un video di questa prima le emmo prima compriamo le armi se no siamo inquilati io ho paura ragazzi è stra stretta ragazzi mi sono un po' caccato ad ora qua bisogna fare i big escape big escape si infatti immagino ragazzi verranno se siete già arrivati a questo punto del video lasciate anche un like esatto il like tratteniamo il respiro uuuh pensa abbiano messo il like il messo è che la gente che in vecchi video questa cosa non la capisce ritratteniamo ritratteniamo il respiro perchè la gente non si scrive al canale nuovo esatto devi iscriversi al canale dei conviti vi dovete scrivere al canale dei conviti eeeh come cazzo hai fatto il respiro che verso hai fatto io ho comprato il Thompson ragazzi comprate anche voi il Thompson chi è che ha preso l'inchia grande zio bordello in sta mappa figa bordello in questa mappa ragazzi no no perchè se non compri il Thompson sei un coglione figa se non nasce dal labirinto qua sei un coglione è l'emblema l'emblema è il labirinto se cos'è sta persona ci sta guardando la salutiamo e ci limitiamo a salutarla figa l'emblema è l'enigma ragazzi guardate qua in alto io non vorrei dire ma forse questa mappa è anche multistrato io ho paura per il fatto che è al soffitto basso e è claustrofobica figa l'emblema è l'emblema dell'enigma si serve la corrente vabbè ragazzi io vi ho perso io ero convinto di aver comprato un fucile invece ho preso una cosa io sono rimasto con jambu ragazzi ho trovato dei soldi per terra eh ma anche io avevo trovato i money tipo di la guarda qua eh si c'è il simbolo dei money e qui in giro ci sono i money ragazzi c'è la mappa che aggiorna su dove siamo cassa la cassa dove sei la cassa no non è vero è una bugia però volevo un trollone ehi tu sono il trollone io sono il trollone tu stai parlando mi stai dando del troll c'è un piccolo problema ma qui comunque la porta che avete aperta non porta da nessuna parte oh vi giuro che mi fa un sacco di ansia sta mappa cioè è solo per... è stretta io da solo non la giocherei mai neanche io ho molta paura cosa sta voce dove si va di qua ma poi ci sono queste voce un po' brutte ma infatti io sono da solo un'ansia addosso qua c'è il siglo della corrente quindi significa che la corrente è di qua 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 io vi ho perduto però facciano il vino in questo posto io provo ad avere da questo lato vai vai proviamo oh sta stanza è questa freccia ragazzi ho trovato un posto vieni qua zombie segui la mia vita aspetta non è che bisogna tipo alimentarlo un attimo un attimo raga 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 sono nella shit più totale sono nella merda intanto noi che sappiamo fare le custom map notiamo là in basso un bug delle texture bene ragazzi io ho degli zombie ve li devo portare no aspetta fallo uscire fallo uscire che voglio vedere se questo cervello è da riempire tipo C'è un cervello qua guardate che qua di cose ce ne sono sicuramente da fare eh e noi ne abbiamo ancora iniziato a fare un cazzo a livello 5 si è dura sta mappa ok aspetta allora eh raga io vorrei dire guardate i miei punti adesso no non è da riempire caricate ok perfetto eh scusate mi ha elevato una manata il preavviso è che tra l'altro signor jumbo oggi è il tuo vero che hai condiviso l'altro bastardo si l'immagino l'avevo condiviso avvertite sempre prima di ricaricare si con la sim con la foto che vediamo appena detto zombie vieni qui ad aprire che è che mi ha sparato apriamo Debbio guardi sono dietro qua io guardatemi ah ho visto che sei lì perchè io vi lancio dei sassi ti ho tirato la granata in testa oh 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 i cani? come i cani? i cani ragazzi io mi son perso Debbio non so che mi metto nell'agolino con te eh stiamo tutti nell'angolino non c'è nell'angolino antipanico non c'è Jimbo eh vabbè io sono l'altro ovviamente è bloccato io non riesco a muore il junk il junk il junk c'è il junk di qua la ci sede la corrente ah beh giustamente ho una piega a questo ragionamento incredibile lei si andrà tranquillo ma la corrente dove è? oh cazzo satano eh era più bug quello eh però no 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 muoio 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 vado alla Jimbo vado alla Jimbo no non si va di qua ragazzi eh zombie zombie che cazzo fai? è un problema perchè non posso neanche muovermi seguite i miei proiettili segui la mia voce ci sono Jimbo ci sono aiuto ah no i cani di merda eccomi 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 ecco ti puttana che casino oh sono andati a terra tutti ok ok andiamo a salvare i idioti ehm andiamo a salvare i idioti andiamo a salvare i idioti insomma bevamo tre canini a terra raga tranquille tutto sotto controllo stiamo facendo strada io con uno spara graffetti e zombie muoio noi se non ci muoviamo tranquilla tutto sotto controllo io prima non lo fare non lo fare non lo fare uccidi nooo sono rosso uccidi no non ce la faccio sto ricaricando sto ricaricando ah ah ma cos'è un circolo vizioso dai cazzo vai 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 no tranquilli siamo solo io siamo senza cani qua ok fatto fatto tiro su tiro ok oddio ragazzi devo smetterla con le droghe tirate su tirate su e poi prendi l'emmo perchè sennò vada male aiuto vada male no aspetta che tiro su giro grazie grazie non ne non so stato io eh 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 signor vedo ti ha preso il jumbo non è vero dove si va di qua dove si va apriamo cose a case apriamo cose a case apriamo cose a case ragazzi la corrige dovrebbe essere con il giro scisci scisci cosa ho sentito una voce mi è straspaventato la cassa la cassa sto giro non è un fake raga la cassa dove 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 qua 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 entrate eh aspetta che ti libero eh ammo ancora mi sono perso ragazzi non prendetevela tutta ragazzi devo fare una cassa anche io voglio fare una cassa ah beh le armi antiche armi antiche ci sono armi antiche lasciatemene fare una assolutamente spada e scudo armi antiche armi aiuto ragazzi arrivo arrivo arriva quello forte ce ne sono un po' di zombie qua porca puttana non ti lascio ne morire no no io devo fare cassa ok non ce ne sono più non ce ne sono più uno ancora uno ne arriva uno ne arriva uno hanno visto lo youtuber se ne vanno no ho ne sono tirato le granate addosso ragazzi mi hanno rimbalzato conto cos'è questo armi incredibile bene io per questa cosa dovrei morire si eh ragazzi sopravvivete dimmi ci arrivano dimmi ci arrivano eh vai 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 tranquilla non riesco a raggiungerti oh no non ho fatto una troiata siete voi che ve ne siete andati lasciandomi solo ah Gimbo io eh raga mi salvo io salta oh mio dio Debe oh mio dio Debe oh mio dio Debe salvami oh mio dio Debe oh mio dio Debe mi faccia fare no l'importante non è sapersi rialzare trovate la corrente cazzo apro porta a caso apro questa mille la cassa dov'è la cassa mi guardi mi guardi il zombie mi guardi ok necessiti di una cassa lasciatemela per favore anche io sto arrivando sto arrivando sto arrivando ma adesso non sparisco dai non ho armi non ho armi ragazzi ma questa cosa qui deve avere un senso in questo ragazzi dovessi avere un senso a questa mappa che questa custom non ce l'ha sa che cosa ha senso ragazzi io direi io direi hashtag ma domani ma no dove è l'armi e muro d'armi a muro ragazzi qui 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 dove sono io dove sono io qui 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 vieni come entra dove se sei mi qua entra necessito supporto necessito supporto ooo ragazzi dai 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 jambo 92 ti vedo in dapparato a sparare molte aspetta sto arrivando sto arrivando ti vedo sparare matti oh mio dio tira granate lo tiro lo tiro lo tiro lo tirò su grande cioè lo tiro su mamma mia grandi cos'è sto disastro madonna è incredibile incredibile di quattro degli animati tranquillo lo smatte oh mio dio ragazzi c'è un casino assurdo qui no non ci posso credere sono morto a un centimetro la bomba la bomba la bomba prendi la bomba la bomba ce la bomba corri nooo